Siamo con Giuseppe Severi che è il presidente dell'Avis Bike Pistoia insieme alla nostra donna del record Edita Puciscaite anche oggi loro sono qua a Ricciona all'Hotel Corallo per andare a presentare quello che sarà il calendario AXI 2023 e non poteva mancare la Gran Fondo Avis Bike Pistoia Edita Puciscaite Sì, il 18 giugno ci sarà appunto l'evento la Gran Fondo Edita Puciscaite a Pistoia un evento all'insegna del divertimento, della solidarietà e dell'amicizia si svolgerà tra le montagne dell'Appennino Pistoiese e con quel pizzico di agonismo ci saranno due cronoscalate Edita, sicuramente si parla di una Gran Fondo nata per divertirsi, nata con un pizzico di agonismo ma nata anche per un qualcosa di benefico e quando si parla di benefico Avis Bike non poteva rimanere indietro Assolutamente, la nostra società Avis Bike Pistoia promuove la filosofia delle donazioni siamo tutti donatori Avis e soprattutto organizzando la Gran Fondo vogliamo sempre aiutare a chi ha avuto meno di noi quindi 3 euro per ogni iscritto anche quest'anno, anche il prossimo anno insomma andranno in beneficenza Sicuramente tante novità, Presidente se ce ne puoi svelare una in particolar modo senza diciamo allargarsi troppo però piccole novità che si troveranno a Pistoia Sì, sicuramente ci sarà una nuova cronoscalata, un nuovo percorso e sicuramente sarà molto avvincente ma sicuramente divertente e alla portata di tutti Edita Puciscate, quando siediamo lì veramente 3, 2, 1, via e partenza ufficiale, cosa si prova? Si prova un brivido, un brivido di emozione anche perché abbiamo uno speaker in gamba, molto in gamba che dà tanta gioia e tanta grinta in partenza Volevo anche sottolineare un aspetto, invitiamo anche tutte donne soprattutto le invitiamo come sempre in prima fila perché insomma la Gran Fondo Edita Puciscate è un Gran Fondo che promuove anche il ciclismo femminile oltre a tante altre cose Facciamolo insieme allora, signori e signore, in questo particolar modo proprio signore sarete invitate tutte voi a pedalare a corpi di pedale alla Gran Fondo Edita Puciscate dove potrete partire davanti perché la donna ha la precedenza sull'atleta maschile si può dire perché la Gran Fondo Edita Puciscate rappresenta il movimento rosa Tutte donne vi aspettiamo, uomini vi aspettiamo, atleti diversamente abili vi abbracciamo come sempre e quindi siete invitati gratis quindi ragazzi vi aspettiamo 18 giugno 2023